Ciao, sono Steven Thomas e sono qui con una persona pazzesca, un esperto di bioarchitettura feng shui e un esperto della scienza, della fisionomia che ha cambiato la mia vita davvero e non vedo l'ora di condividere questa persona con tutti voi. Voglio presentarvi Stefano Parancola. Ciao Stefano, come stai? Ciao Steven, bene, grazie, ciao a tutti, buongiorno. Fantastico, grazie per essere qui con noi oggi perché parleremo di un tema che io trovo molto affascinante e anche può essere applicato al nostro lavoro, quando facciamo il colloquio, quando abbiamo nuovi clienti. Comunque è un strumento, è una conoscenza che io ho trovato molto molto utile. Le scienze della fisionomica. Allora Stefano, parla un po' prima di te e poi che cos'è questa scienza che tutti devono sapere. Sì, ti ringrazio. Io ormai sono 25 anni che come architetto ho dedicato, diciamo, la mia vita al benessere. Quindi partendo dalle case e poi passando molto tempo in Oriente ho iniziato anche a studiare ovviamente l'energia personale perché quando faccio un intervento in una casa devo capire che ho davanti. Quindi la casa è come un abito che devo fare su misura per la persona. Dopo anni, diciamo così, trascorsi in Oriente ho conosciuto la fisionomica e mi ha veramente colpito, affascinato questa antica arte e scienza che ci aiuta a capire le cicatrici emozionali. Perché il nostro volto è come una sorta di cruscotto. Quindi attraverso le informazioni che impariamo con la fisionomica riusciamo a capire tutti questi segni di sassamenti che ci sono nel volto. E quindi in base a questo possiamo aiutare la persona a migliorare la propria vita. Questo è pazzesco, è meraviglioso. E poi adesso da quando ti conosco e ho fatto questo corso insieme con te che tutti è disponibile, Stefano fa questi corsi veramente pazzeschi. Quando ho fatto questo corso insieme con te mi ha cambiato completamente quando vedo le persone anche per strada o sto camminando in giro e nel lavoro. Allora condividi un po' questa conoscenza con tutti quanti. Sì, diciamo che tutti noi ogni giorno ci mettiamo la faccia. Quindi la faccia è un elemento, il volto, che non possiamo coprire. Quindi lo condividiamo. E quindi attraverso le microespressioni, attraverso la lettura, anche la conoscenza del naso, l'importanza del naso, degli occhi. Adesso vi darò alcune informazioni. Per esempio le orecchie rappresentano il rapporto con i genitori, con i familiari. E se tu osservi anche i bambini, per esempio degli orfanatrofi o persone che hanno disassamenti delle orecchie, rappresentano anche dei traumi che una persona ha subito nei primi 14 anni della vita. Perché poi la fisiognomica ha anche dato un'adattazione nel volto. Quindi per esempio la parte sinistra del volto rappresenta il rapporto con il maschile. Il maschile vuol dire il padre, vuol dire l'autorità, la disciplina, la parte più young. La parte destra rappresenta il femminile. Quindi la nostra interiorità, il nostro modo di amare, di amarci. E quindi si può veramente scavare in profondità e scrivere un libro su una persona. Questa è una cosa che l'Oriente da 3.000 anni ci trasmette. È fantastico. Allora, che cosa significa la cicatrice emozionale? Quando tu parli della cicatrice emozionale, cosa significa veramente? Allora, il volto, questo è stato studiato sia in Oriente che in Occidente. Pensiamo che anche Leonardo da Vinci, nel suo trattato della pittura, parla di come tutto quello che sta all'interno del nostro corpo viene riflesso nel volto. Quindi in base ai traumi, le gioie, i dolori, noi segniamo continuamente il volto. Le linee, per esempio, che vanno verso l'alto rappresentano momenti di gioia. Le rughe che vanno verso il basso rappresentano le sfide della vita, i momenti più difficili. Quindi in base a questo linguaggio, conoscendo questo linguaggio, noi possiamo interpretare al meglio veramente quello che una persona ha passato, ha vissuto. Allora, io quando faccio corsi, eccetera, e parliamo della fase colloquiale con i clienti, no? Quando siamo in fase di conoscimento, conoscere i clienti, fare colloquio, eccetera, facciamo tanto anche studio su come leggere fra le righe, no? Non sono necessariamente la parola che spiega veramente come sta e come pensa quella persona. Ma dopo che ho incontrato te e ho studiato questa scienza, ho capito come leggere anche le persone attraverso la loro fisicità, le loro volti, la loro forma delle loro teste, le forme della faccia, le orecchie, il naso, tutto quanto. Allora, cominciamo con le distorsioni e dissassamenti nel volto. Sì, come dicevo prima, le emozioni intanto cosa sono? L'emozione è qualcosa che smuove da dentro. Quindi, per esempio, se una persona ha vissuto un'infanzia abbastanza difficile, potrebbe avere anche degli elementi del volto più introversi, più piccoli. Quindi quando vediamo una persona che ha delle orecchie piccole, un naso piccolo, una bocca piccola, è una persona molto introversa. Quindi, per tornare al tema dei parrucchieri, se arriva una cliente che ha un volto di questo tipo, posso capire che è una persona che è più delicata, più introversa. Quindi dovrò cercare di relazionarmi pian pianino con lei, non essere aggressivo o troppo impattante. Se invece una persona ha un volto più proiettato verso l'esterno, occhi grandi, naso grande, bocca grande, è molto più extroversa, quindi più colloquiale, più veloce. E quindi, se posso proporgli un taglio di capelli, questa magari accetterà di più. Per esempio, c'è un punto che si chiama Wind Gap, che è questa parte qui dell'orecchio, che rappresenta la mentalità di una persona, cioè l'apertura montale. Quindi quando questa parte è molto, diciamo così, divaricata, la persona è molto più svelta, riesce a dire anche un taglio di capelli innovativo. Quando invece è più chiuso, è più conservatrice. Quindi, sapendo questa cosa, io posso anche poi interagire, quindi non, cioè negoziare al meglio e soddisfare al meglio la cliente. Stai dicendo questa zona, questa zona qui dell'orecchio, questo pezzo che esce dentro? No, no, questa parte qui, questa, la V che si fa qui, vedi? Ah, ok, ok. Si chiama porta o Wind Gap. La porta del vento la chiamano i cinesi. Disassamenti vuol dire che quando noi troviamo sopracciglia più basse, più alte, bocche storte, sono tutti quanti degli elementi, dei traumi segnati nel volto. Quindi quando parliamo di sopracciglia, sopracciglia rappresenta un rapporto con i fratelli, i collaboratori. Quindi quando una persona ha troppi disassamenti vuol dire che ha perso, per esempio, anche la relazione col padre, non è buona, l'autorità. Cioè sono delle cose che vengono a mancare. Quindi il volto inizia a sottolineare sempre di più questi elementi non più proporzionati. Wow. So, allora, so, perché siamo tutti asimmetrici, no? Diviso. So, ognuno di noi abbiamo un lato più alto, un lato più basso. normalmente sono sempre più o meno lo stesso, nel senso che normalmente sembra, quando stiamo guardando clienti, eccetera, che la parte destra tende ad essere più alto di quello sinistra, eccetera. Ma cosa, so, tu dici, questi sono elementi influenzati proprio le condizioni di vita. Sì, sì, sì. E se poi tu, la fisiognomica è abbastanza scientifica, tieni conto che deriva da dati statistici. Quindi i cinesi hanno monitorato per 3.000 anni tantissimi casi, ma adesso ormai, a livello mondiale, tutte le assunzioni di personale, nelle grosse holding internazionali, vengono fatte attraverso grafologia e fisiognomica. Quindi sono tantissimi riscontri. È chiaro che ci sono leggeri, cioè noi abbiamo, è vero che abbiamo una parte del volto che è un po' più asimmetrica, ma delicatamente, non è che il volto sia così diverso. Quando questi elementi iniziano a essere un po' più decisi, vuol dire che c'è una cicatrice, un microtrauma che si è provocato da eventi nella vita. Allora, parliamo un po' degli orecchi, perché questo non sapevo che gli orecchi potevano parlare così tanto di una persona, come sono imposto le linee, come le pieghe in alto, piuttosto di grandezze del lobo, hanno tanto da dire. Poi spiegaci un po'. Sì, le orecchie appunto rappresentano un punto fondamentale del volto, perché rappresentano i primi 14 anni della vita in rapporto con i genitori. Quindi è fondamentale come noi veniamo cresciuti e elevati. Quindi la presenza o mancanza di amore segna la vita delle persone. Quindi se tu guardi anche adesso attraverso anche internet si può anche studiare la vita degli attori. Sono attori che hanno avuto delle vite abbastanza problematiche, infatti se tu osservi le orecchie vedi degli sfalsamenti e disassamenti molto forti. Allora diciamo che quando è ben disegnato, cioè che la parte carnosa dall'elice fino al lobo è ben strutturata, vuol dire che la persona ha avuto un'infanzia e sta seguita, diciamo così, ha avuto l'amore necessario ai genitori. Il lobo per esempio è un elemento importantissimo che rappresenta l'amore incondizionato. Infatti se tu pensi, il Buddha quando viene rappresentato nell'iconografia ha sempre un lobo molto grande. Sì, è vero. Quindi più il lobo è disegnato, è grande, la persona è più amorevole. Quando il lobo è più tagliato, non è che non sia amorevole, però vuol dire che deve avere magari, è un po' più intrinseca la persona, deve lavorare un po' di più nel manifestare questo amore. È vero, anche nelle tribù africane, anche in tante culture, il lobo, quello spesso, quello ingrandito, anche fanno proprio le... per ingrandire il lobo, per mettere in evidenza, infettuare il lobo. Esatto. È molto, molto affascinante questo elemento. E tu stavi dicendo, allora, la parte in alto, questa zona qui, come si piega, ha di fare con la parte sinistra e destra? Perché... Sì, la parte sinistra, per esempio, per un uomo rappresenta da 1 a 7 anni, ed è la parte del padre. La parte destra, dagli 8 ai 14. Per una donna è l'opposto. L'orecchio destro rappresenta la fascia 1 a 7 anni, e la sinistra 8-14. Però, la parte sinistra e destra è sempre uguale. Quindi, se tu trovi, per esempio, una donna che ha un orecchio sinistro più sfalsato del destro, più aperto, può essere che ci sia un trauma legato al maschile. Quindi, può essere magari un genitore, e di solito queste cose sono sempre molto, molto ad effetto dimostrabili. Cioè, è così. Perché, appunto, hanno una conoscenza di 3 mila anni alle spalle che sono state documentate, perché i cinesi sono molto pragmatici da questo punto di vista. Sì, sì, molto, molto interessante. Allora, per qui, la parte destra e sinistra rappresentano rapporti con i diversi genitori, per cui padre, madre, e per la donna, per l'uomo, e per la donna è a posto, per cui la parte sinistra rappresenta dall'altro, a posto di quello di uomo, e con il rapporto che abbiamo avuto diversi fasci della nostra età, per cui la prima parte, fino a 8 anni, e poi 8 anni, fino a 14 anni, giusto? Esatto, esatto. Wow, incredibile, incredibile. Allora, parliamo di quello che sono il naso, perché anche il naso, perché io ho rotto quattro volte il mio naso, due volte, la prima volta con una mazza di baseball, di legno che stavo giocando a baseball in America, mi ha proprio rotto tutto il naso, e per cui anche, anche questa è una domanda, anche dopo che ha subito cambiamenti, elementi della nostra vita, a volte, eccetera, magari per un incidente, o per gli interventi chirurgici, chirurgici, o qualcosa di questo genere, che effetto può avere sulla nostra vita? Allora, questo è molto importante, perché la fisiologia incide sulle emozioni, come le emozioni incidono sulla fisiologia. Ciò vuol dire che, se tu hai un naso storto, hai un naso rotto, ovviamente avrai difficoltà poi anche di respirazione, però dal punto di vista della fisiognomica, e infatti i cinesi sono uno dei popoli che investe di più in assoluto sulla chirurgia estetica, poi apriamo una parentesi sul concetto di chirurgia estetica, medicina estetica, non più invasiva, ma che rispetta l'essere umano. Quindi quando tu intervieni e vai a ripristinare un naso che si è fatto in armonia con il volto della persona e non una cosa che si è astratta, tu vai a ripristinare un equilibrio tra la fisiologia e l'emozione. Cioè, se tu hai un naso storto e ti guardi, faccio un esempio allo specchio, di conseguenza tu sentirai sempre avere una visione distorta, brutta del tuo volto. Se ti rifai il volto, il naso, e ti vedi bello, questo ovviamente va a nutrire anche il tuo subconscio, quindi ti fa sentire, ti fa sentire molto bene. Quello che è successo negli ultimi 20-30 anni è che purtroppo molti anche attori, subrette, attrici, si sono devastate fisicamente. Abbiamo tantissimi volti sotto gli occhi continuamente. E quindi quando, se pensiamo per esempio alle labbra, le labbra affillerate o con tanti interventi di silicone, vediamo queste donne che hanno queste labbra che sono praticamente sformate. Ecco, le labbra, se voi vedete qui in questa immagine, dare e prendere, le labbra rappresentano per una donna anche la parte più intima, la sessualità. Quindi negli ultimi 20 anni aver ecceduto nelle labbra è anche un segno di avere aumentato l'aspetto materialista, edonista. E quindi questo crea anche un distacco della realtà, non c'è più un equilibrio. Quindi ecco, bisogna conoscere queste cose. Per esempio, il labbro superiore rappresenta anche il dare, quello inferiore è il prendere. L'ideale sarebbe avere delle labbra equilibrate. Quando abbiamo un labbro inferiore, più sottile, la persona tende troppo a prendere e poco a dare. Parliamo sempre di azioni amorevoli. Interessante, interessante. invece, se è più pieno sotto che è più o meno sempre più più così in genere. Normalmente le persone hanno la parte più bassa, più piena. Sì, diciamo, se il labbro superiore è più sottile e quello inferiore è più grosso, c'è anche lì un leggero disequilibrio. Però diciamo che la persona è una situazione migliore quella. È una persona che sarà anche più spinta al business. Ok, interessante. Ma comunque torniamo un attimo ancora sul naso per cui ci sono anche le forme e quando vedi il profilo le forme che sono che hanno molto di dire su tipologie di personalità che uno ha. Sì, se tu pensi facciamo un esempio poi parliamo in dettaglio del naso se tu pensi anche nel mondo dei cartoni animati della cinematografia com'è che vengono rappresentate le streghe sempre hanno un mento molto forte il naso aquilino. Se tu pensi il naso aquilino appartiene molto alla popolazione diciamo araba aquilino perché l'aquila cosa fa? È un uccello rapace quindi si è visto un po' che la tendenza ad avere un naso aquilino sono persone a volte un po' opportuniste e se tu guardi che l'ultimo film che ha fatto Angelina Jolie Maleficent è stata ritratta con questi zigomi molto forti anche nel campo televisivo cinematografico vengono a volte rafforzati gli elementi un viso quando è molto appunta appuntito vuol dire che la persona sarà anche molto spigolosa quando un volto invece è più morbido la persona è più dolce più morbida più accondiscendente il naso per esempio rappresenta anche il fiuto per gli affari quindi la punta del naso rappresenta la ricchezza diretta come io produco business mentre le narici rappresentano la ricchezza indiretta cioè quello che mi viene dall'esterno più il naso è largo più la persona tenderà anche a spendere e ad avere anche un ego eccessivo se voi osservate i nasi delle persone di un certo livello che fanno molto business vedrete che hanno nasi con delle punte belle arrotondate è vero è vero ho notato anche questa cosa io allora ci sono anche le linee frontali e le sopracciglie che sono hanno anche le sopracciglia hanno una storia tutto quanto anche loro anche cada uno separati fra di loro certo il sì il sopracciglio sinistro per esempio viene chiamato il barone l'autorità sopracciglia adesso la saggezza infatti quando tu vedi anche nei politici che c'è questo disassamento vuol dire che la persona non sa mantenere un giusto equilibrio tra quello che dice e quello che sente più dentro di sé e questo appunto è dovuto dalle sfide della vita anche dalla non coerenza dalla mancanza a volte di etica la mancanza di etica si può vedere anche sopra le sopracciglia c'è una zona che si chiama palazzo della fortuna delle virtù quindi se vengono fuori nei cicatrici segni righe rughe molto forti perché poi quando tu guardi un volto un volto potrebbe avere un naso molto grande una bocca molto grande se tu pensi a Julia Roberts Julia Roberts ha avuto successo a questa bocca immensa ed è stato il suo successo una giornalista che l'ha intervistata mi diceva che parla continuamente infatti una bocca molto larga rappresenta una persona molto loquace quando è tanto grande vuol dire che parla in maniera anche eccessiva sì allora parliamo comunque dalla parte sinistra o dalla parte destra hai detto di manifestazioni di rughe sopra le sopracciglie non ho ben preso questo ho detto che la sopracciglia sinistra rappresenta per l'uomo l'autorità il barone quella destra la saggezza per la donna l'opposto ah ok molto intensa diciamo nella lettura del volto generalmente le zone sono sequivalgono in alcune letture c'è un cambio di polarità tra uomo e donna ecco allora la zona qui no perché questo normalmente tanti di noi leggiamo abbastanza queste righe che arrivano fra le sopracciglie persone che anche camminano anche molto molto giovane ha un età giovanissimo di avere di righe fra le sopracciglie o di quelli frontali sì infatti quella parte lì si chiama life palace palazzo della vita nel volto i cinesi hanno individuato 12 palazzi e il palazzo centrale ecco dove c'è la punta del dito che vedete nell'immagine e questo life palace più viene segnato più rappresenta indica che la persona ha dovuto subire molte sfide nella vita ma questo non è detto che sia positivo o negativo dipende sempre da come una persona sa gestire quello che gli capita se vengono fuori delle linee per esempio delle curve sul sopracciglio sinistro può essere un problema legato al fratello o alla sorella maggiore se non ha fratelli può essere all'amico più intimo o a collaboratori se invece dalla parte destra rappresenta fratelli o sorelle minori perché è sempre la parte young e yin quindi il sinistro rappresenta lo young il maschile il più grande il destro rappresenta lo yin il femminile il più piccolo wow molto interessante molto molto interessante è giusto i segni non significa negativo i segni significa difficoltà di sfide nella vita ma possono anche essere esempio di una persona molto molto saggio una persona che ha vissuto anche benissimo le difficoltà della vita e è uscito fuori ancora ancora in modo migliore di persone che hanno avuto meno sfide nella vita giusto Stefano sì ma infatti la cosa interessante che mi hanno insegnato i maestri in Oriente è che la lettura del volto non deve essere una lettura di tipo terroristico come fanno delle persone è una lettura di conoscenza e di aiuto perché ognuno di noi in ogni momento della vita può cambiare migliorare anche in questo momento che stiamo attraversando è un momento di grande introspezione di crescita delle coscienze e di consapevolezza delle persone e quindi questo è il messaggio che noi dobbiamo sempre dare che ognuno di noi può sempre migliorare la propria vita sì allora noi concettori truccatori eccetera ci interessa moltissimo e parliamo moltissimo delle forme della vita no? quadrato rettangolare triangolare cuore eccetera allora illumina da questa scienza di interpretazione delle varie forme della vita faccia scusami sì ma infatti lì si usa la teoria dei cinque elementi quindi il volto può essere quando ha una forma quadrata è terra quando una forma ovale è metallo quando una forma triangolare cioè molto larga sotto è punta sopra è fuoco quando invece è più larga sopra e più stretta sotto è legno e quando è molto rotonda è acqua nella fisiognomica o mian shan come la chiamano i cinesi o face reading quindi lettura del volto si fa questa relazione tra forma del volto colore della pelle e colore dei capelli ecco perché è importante anche il vostro lavoro quindi anche se io devo scegliere la tinta dei capelli mi ricordo che io non sono un esperto però 15-20 anni fa c'era questa grande moda che tutte le donne avevano i capelli rossi e aranciati in un volto per esempio molto circolare che è metallo non va bene usare troppo il fuoco perché il fuoco brucia il metallo e crea è come se creasse un conflitto della persona perché tutto quello che noi abbiamo adosso che sia un vestito che sia anche un colore dei capelli che sia un ornamento ci crea un'influenza e quindi questo va a influire poi anche sul benessere della persona wow super interessante super interessante per cui la conoscenza di queste forme della vita queste forme del volto allora influenzano possono anche essere determinanti sulle tipologie di tonalità di colore che si abbina perché sono il colore per i capelli che convivono meglio a livello energetico con la forma del viso e quello che rappresenta esatto tu puoi consigliare conoscendo questo anche a una persona di mantenere un giusto equilibrio un giusto livello di benessere studiando appunto partendo da questo concetto quindi colore dei capelli colore della pelle e forma del viso ovviamente queste cose poi vengono insegnate bisogna fare un po' di training su questo assolutamente ma in modo generale anche molto superficiale solo per orientamento per orientarci allora di queste cinque forme in modo molto ovvio largato perché ogni situazione è una situazione unica ma cominciamo con il viso rotondo allora che cosa a livello caratteriale può rappresentare allora il viso rotondo che individua il metallo il metallo come un coltello anticamente i visi rotondi erano visi che appertenevano a generali ufficiali cioè chi doveva gestire anche situazioni problematiche quindi nel mondo moderno chi ha un viso tendenzialmente su rotondo è una persona che sta risolando velocemente i problemi come un coltello che taglia quindi il viso rotondo metallo potrebbe avere bisogno se parliamo di una donna anche di una colorazione sul diciamo così biondo con delle mesh con delle diciamo dei dei colori che vanno dai castani ai biondi sì e freddi sì esatto sì ok fantastico allora abbiamo la faccia legno cos'è? la faccia legno è una faccia che è molto larga più sopra e va giù come un triangolo verso il basso oppure è come una scatola che va giù dritta e poi si chiude sotto qua il volto legno è il volto che appartiene a artisti creativi perché il legno è come una pianta cresce quindi cresce in tutte le direzioni il legno è legato al benessere alla salute alla creatività alla bellezza questo anche nel feng shui quindi un volto legno potrebbe avere anche una colorazione dei capelli sullo scuro tipo anche verso il nero perché il nero rappresenta l'acqua e in natura l'acqua alimenta il legno wow interessante allora la faccia acqua la faccia acqua è una faccia molto dilatata è un cerchio abbastanza grande e il viso acqua è il viso dei siccome l'acqua rappresenta la comunicazione la fluidità è il classico volto di un businessman di una persona che sa fare affari perché l'acqua appunto rappresenta il viaggio l'informazione il andare su diversi luoghi e in un volto acqua per esempio potrebbero essere interessanti i colori scuri anche qui abbastanza freddi perché l'acqua rappresenta anche poi un elemento fluido ma anche freddo interessante allora terra terra invece è un volto più quadrato abbastanza largo squadrato i cinesi dicono che le persone con un volto terra siccome nella terra sono conservati i tesori sono persone i veri amici che mantengono i segreti e con un volto terra si potrebbe utilizzare colori più caldi sono gli aranciati i rossi tutte quelle tonalità molto più vive interessante sì le persone che conosco con le facce molto guardate così molto terra sono d'accordo ho trovato spesso questa caratteristica anche molto leale allora qui abbiamo sotto due triangoli no? abbiamo dei triangoli triangoli a rovescio uno che è segnato legno e l'altro fuoco allora andiamo su questa sì il legno appunto come dicevo prima può essere o scatolare oppure può essere un triangolo poi dei volti hanno ovviamente dei menti più piccoli quindi si percepisce di più questo cambiamento se tu guardi il legno e il fuoco sono opposti il legno l'energia va verso il basso il fuoco verso l'alto sì quindi infatti se tu pensi le persone che hanno i volti fuoco sono persone che che hanno la mascella molto larga molto impettuose sono molto divertenti ma come una fiamma prendono fuoco velocemente quindi a volte possono essere anche anche aggressive quindi un volto fuoco può a volte potrebbe anche essere utile stemperarlo un po' e quindi usare una tinta più fredda per esempio quindi anche lì poi si va in dettaglio a seconda dello stato psico-fisico della persona che poi voi conoscerete meglio perché le vostre clienti molte sono fidelizzate attorno potete anche in base alla persona se ha un volto fuoco calmarla un po' attraverso una tinta più che spegne un po' questo impeto ok ma non ho visto quello che è la faccia ovale quello che l'ovale rientra nella forma metallo ok ok perfetto allora benissimo allora abbiamo parlato un po' di quello che sono le forme del viso allora gli occhi di sestimento anche degli occhi e di grandezza degli occhi queste cose qua sono molto molto affascinante perché gli occhi sono la finestra all'anima esatto infatti i cinesi dicono che anche in un volto molto rigato magari anche non non bello ma la luce degli occhi degli occhi luminosi salvano il volto infatti quante volte è che tu vedi una persona e gli dici che bella luce negli occhi che hai e questo da dove arriva? dai pensieri che noi nutriamo se una persona ha dei pensieri sempre positivi avrà anche una luce negli occhi ma anche un volto molto luminoso infatti gli occhi si chiamano le finestre dell'anima e gli occhi non mentono se tu serve una persona e ti guarda negli occhi non può mentirti se ti mente inizierà a scappare da te alzare gli occhi abbassarli è difficile sono pochissime persone al mondo che riescono a mantenere una freddezza da questo punto di vista è vero quando io faccio cin cin devo guardare le persone negli occhi e vorrei che venga visto anche dall'altra parte direttamente negli occhi verissimo giusto verissimo ma poi abbiamo tutti un occhio più alto e leggermente un altro occhio un po' più basso che cosa può significare questo? si beh dipende poi anche uno può avere un occhio più contratto se dalla parte sinistra o destra ha un significato diverso per insomma persone che hanno proprio disassamenti molto forti quando ci sono dinamiche perché comunque l'occhio rappresenta le emozioni interne quelle più profonde quindi quando una persona mente lo fa spesso può avere la bocca distorta e anche degli occhi distorti per una persona coerente etica ci sono meno queste distorsioni è vero fantastico wow io potrei parlare per ore 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 e lo so che questo è un argomento molto molto affascinante come possiamo scoprire di più Stefano su questo questo argomento beh se volete ho creato un gruppo si chiama capirsi in un istante che è il titolo del mio libro dove sto facendo anche dei webinar e poi faccio corsi anche in Italia per cui possono cercarmi nei social e mi trovano fantastico dovrebbe essere anche messo qui sotto la nostra puntata di oggi come potresti trovare Stefano sulle social media e sul sito eccetera e poi puoi trovare e vedere questo video su tutto il video su YouTube di Parruccherando con Stefano Parancola e Stefano vorrei anche avere un'altra opportunità di parlare più in profondità magari andiamo su vari tratti del viso della testa delle orecchie eccetera per approfondire questo argomento ancora di più con i nostri colleghi in altri appuntamenti futuro e poi se abbiamo l'opportunità anche perché in questo periodo che siamo tutti a casa stiamo anche pensando a come rinnovare il nostro ambiente lavorativo come impostare il salone per la riapertura e per il nuovo cambiamento di società che troveremo di domani per cui anche una puntata sull'architettura Feng Shui può essere un altro argomento molto molto interessante per i nostri colleghi qui in campo di parruccheria e di estetica eccetera allora Stefano fantastico Stefano Parancola grazie mille per grazie a tutti grazie a tutti con noi questa informazione super affascinante e spero di vederti presto insieme con me sul parrucchirando nei prossimi nel prossimo futuro ciao a tutti cari colleghi ciao cari grazie a tutti